Tra l'altro faccio un sacco dei fumetti in cui vivo per il culo le serie degli altri eccetera e mo mi sento un verme perché mo che me rendo conto di quanto è complicata questa cosa e di quanto è doloroso quando qualcuno ti dice ammazza che merda mi devasta questa cosa Come è nata l'idea della serie e questo salto che hai fatto in modo dell'animazione? Come è stato? Allora, l'idea della serie è nata da un po' in verità nel senso che mi piaceva l'idea da una parte di poter fare un prodotto io nei fumetti ci metto sempre spesso le musiche che mi immagino che ci stanno in quel momento lì, ci scrivo i testi delle canzoni fuori dalle vignette con il simbolo della nota per cercare di suggerire quel tipo di atmosfera ma so benissimo che nessun lettore si va veramente ad ascoltare quella canzone là eccetera il fatto di poter consegnare un prodotto che ha il pieno controllo di tutta quell'esperienza sensoriale, cioè di poter creare atmosfere con la musica eccetera è la roba che in generale mi attirava di più del mondo dell'animazione insieme al fatto di essere un linguaggio molto più diretto e accessibile cioè se tu guardi quante persone si reggono un fumetto se lo posto su Facebook o su Instagram si mettono veramente lì a leggere tutto un fumetto eccetera e invece quante fruiscono di un video è sproporzionata questa cosa poi non vuol dire che i fumetti hanno qualcosa di meno, sono un altro tipo di linguaggio eccetera però mi piaceva sfruttare quella caratteristica lì e poi c'è stato il fatto che a un certo punto ho provato quindi a fare da solo ho capito quali erano i limiti del fare da solo nel senso che un conto era fare delle cose così molto brevi e della narrazione in qualche modo molto condensata come era quella di Re Bibbia Quarantine ma se volevo raccontare una storia più organica, più complessa eccetera non ero capace, all'inizio volevo fare tutto da solo però non ero buono a farlo e quindi c'è stato l'incontro con Movimenti in quel caso specifico che in realtà ha sostanzialmente colmato tutte le lacune mie che non erano soltanto evidentemente tecniche di fare un'animazione fluida o cose del genere ma anche proprio del linguaggio cinematografico vero e proprio questo mantenendo la mia ossessione per controllare tutto quindi che fosse esattamente la cifra stilistica mia che dovevo controllare ogni passaggio, le voci che devo fare io eccetera però tutto quello che riguardava appunto invece anche aspetti registici eccetera il fatto di poterlo affidare a qualcuno di più bravo di me me lo assicurava molto